Un incendio apparentemente di origine dolosa è divampato verso le 20 di ieri sera in località Rizzico, presso la ex statale 447, sulle colline che separano il paese di Pisciotta da Ascea. Tempestivo è stato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Vallo, affiancati da una squadra antincendio e da una pattuglia della polizia locale, raggiunti successivamente da una squadra del corpo forestale, a corsa per aiutare a domare le fiamme che hanno bruciato diversi ettari di macchia uniterranea. Fortunatamente nell'incendio, tenuto sotto controllo dall'equip, non sono rimaste coinvolte persone o abitazioni.